Non avete paura di percorrere le strade della fraternità e di costruire ponti tra le persone e tra i popoli, in un mondo in cui si alzano ancora tanti muri per paura degli altri. Mediante le vostre iniziative, i vostri progetti e le vostre azioni, voi rendete visibile una Chiesa povera con e per i poveri, una Chiesa in uscita che si fa prossima delle persone in stato di sofferenza, di precarietà, di emarginazione, di esclusione. Sono parole di riconoscenza e incoraggiamento quelle che Papa Francesco ha rivolto ai membri della Delegazione Catolica per la Cooperazione, non incontrati nella Sala dei Papi, ai presenti, in rappresentanza di tutti i volontari disseminati in 50 paesi, il Pontefice ha chiesto di promuovere una conversione ecologica, servendo la cultura dell'incontro e impiegando i propri talenti in vista del bene di tutti e della salvaguardia della Casa Comune. La parola solidarietà ha insistito, sia un po' allogorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni.